Ben trovati a voi tutti, eccoci ad un nuovo appuntamento con la nostra rubrica Insieme. È un vero piacere avere quest'oggi in studio con noi Don Davide Fiocco, in questo caso nelle vesti di Vice Direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Giovanni Paolo I. Ben trovato Don Fiocco. Ben trovato. Dobbiamo focalizzare la nostra attenzione quest'oggi a un percorso formativo promosso dalla nostra Diocesi con l'Istituto che lei rappresenta, orientato proprio alle relazioni, giusto? Nel corso degli ultimi anni, nei gruppi sinodali, negli incontri che ci sono stati in preparazione al Sinodo, è emersa da più parti, da più persone, la richiesta di itinerari di formazione, una richiesta di avere anche materiale su cui pensare, su cui parlare, discutere, pensare soprattutto. Ed è per questo che abbiamo tentato di calare una proposta meno accademica per la nostra Diocesi. Crediamo, ci pare, di aver intercettato bene la domanda perché le adesioni sono numerose. Ad oggi sono 62 gli iscritti, ma ancora le iscrizioni non si sono chiuse. E forse anche il segreto, l'espediente che ha permesso questo numero elevato è nella dualità della proposta. Si può seguire la lezione in presenza oppure anche online. Ormai ci siamo abituati a questi strumenti che sono diventati utili. Durante la pandemia si è fatto di necessità virtù, adesso ci teniamo la virtù. Esatto. Allora, chiederei cortesemente a Franco che ci segue in regia di proiettare l'immagine della locandina, così vediamo bene di che cosa si tratta. Innanzitutto, pensa che Fede, già il titolo in qualche modo è un po' provocatorio. Ma è frutto di una discussione che abbiamo portato avanti in un gruppo di tutor, quelle persone della nostra Diocesi che collaborano con l'Istituto. e si è voluto anche fare un hashtag proprio per usare un po' un linguaggio quello tipico dei social. Quindi, pensa che Fede, non è proprio dire pensa che Fede che ho, ma pensa che Fede. Cioè, un invito a riflettere sulla Fede, sugli elementi che la Fede cristiana dà alle persone che aderiscono e che sentono che la Fede dà anche un pensiero, un giudizio sul mondo, sulla vita, sulle relazioni, su tutto quello che ci troviamo a vivere. Un orientamento, possiamo dire così. E appunto lei lo diceva, Don Davide, all'inizio la relazione. Questo è un po' il sottotitolo, diciamo. Abbiamo fatto questa scelta di non fare trattati, ma di scegliere anno per anno un tema che faccia da filo conduttore. Quest'anno è il tema delle relazioni collegato anche al sinodo e a quanto sta emergendo in questa attività della Chiesa Universale. Ma una delle cose che più caratterizza l'essere Chiesa, ma anche l'essere persona, è non essere da solo, ma di dover entrare in relazione con le altre persone, sia nella vita normale, familiare, sociale, sia nella vita ecclesiale. Ecco, allora direi di concentrarci adesso sul programma. Quindi facciamo proiettare cortesemente la seconda immagine che abbiamo a disposizione, dove viene elencato appunto quello che è il programma preciso di questo percorso, che comincerà il 6 ottobre. Sì, gli incontri saranno tutti il venerdì sera, dalle ore 20.30 alle 22.05. C'è una pausa di 5 minuti perché sia chi parla sia chi ascolta ha bisogno di prendere fiato. Un bicchier d'acqua, ecco. Esatto, e si comincerà con un'ottica filosofica, sarà Don Rinaldo Ottone che parlerà di questo tema, a cui ha dato un'immagine metaforica ma molto significativa. Angeli con un'ala soltanto si vola se si sta accanto agli altri. Poi seguirà la sorella Miriam Lessio, che è la delegata per la Pastorale della Salute, ha una forte esperienza nell'ambito della relazione anche con gli ammalati. Anche su questo potrà portare la sua testimonianza e anche la sua esperienza, forte anche dell'appartenenza alla spiritualità di Charles de Foucault. A seguire Don Mirko Pozzobon, due lezioni, due incontri, dove l'ottica si sposta sulla Bibbia. Gesù è stato un uomo di relazioni e Don Mirko presenterà questo. Don Alex Vascellari, invece, che è un liturgista, metterà sotto la lente di ingrandimento il tema della liturgia. La liturgia non è l'andare a Messa, è l'andare anche a Messa con gli altri, è un incontro comunitario. Poi a seguire Monica Mortagna, non solo Predi, come si vede, giustamente, Monica Mortagna parlerà di uno studio che sta facendo della diversità dell'approccio alla religione nei vari modi di dire Dio che ormai condividiamo anche nella nostra realtà. Quindi dialogo interreligioso, che comunque è un tema, no? Di cui anche tanto la nostra diocesi si occupa. Poi continuando, arriviamo velocemente verso la fine, ma andremo qui ormai verso gennaio, sarà Don Claudio Centa che tratterà della questione raziale del Novecento e di come la Chiesa l'ha vissuta. È un tema attualissimo perché continuamente torna come Pio XII ha affrontato quel difficilissimo momento in cui noi col senno di poi diciamo ma chi c'era, come poteva, come poteva rapportarsi a quanto stava terribilmente accadendo in Europa. A seguire Don Diego Puricelli, neo laureato in bioetica, si parlerà dell'economia e anche di un approccio teologico all'economia e all'ecologia. Anche questo molto attuale, direi. Anche questi sono temi che hanno a fare con la relazione. Il penultimo incontro è affidato al Vescovo che parlerà della Chiesa come relazione e l'ultimo incontro, ma andremo ormai a febbraio, giovanissimo Matteo Salvadego, da poco laureato, che parlerà della fraternità nel Vangelo. Ecco, abbiamo fatto proprio la carellata di tutti gli incontri che verranno proposti. E questo è importante proprio per così dare ulteriori informazioni a coloro i quali magari decidessero in questi giorni di iscriversi, perché come ci diceva è ancora aperta la possibilità. Magari per una visione un po' più dettagliata rimanderei volentieri al sito della nostra diocesi www.chiesabellunofeltre.it Certo. Senta, Don Davide, questa comunque è una proposta innovativa in qualche modo? Speriamo di sì. Ci abbiamo provato a fare una proposta che non sia solo catedratica, che sia anche duale. Abbiamo questo problema di una diocesi che è molto estesa, dove il più della popolazione è in Valbelluna, ma c'è anche altra parte della popolazione che vive lontano, le distanze creano problema. E quindi questa proposta che sfrutta la tecnologia è un tentativo di venire incontro alle esigenze di tutta la diocesi. Dobbiamo ricordare anche le tante persone che si sono adoperate per la realizzazione. Ovviamente lei coordina, dirige un po' il tutto, però so che ha dei giovani anche che l'aiutano. C'è un bel gruppetto di persone. Adesso farne il nome rischio di dimenticare qualcuno. I nomi non li facciamo, però è un utrito, ecco, gruppo di volontari. Un gruppo di quelli che sono i tutor poi, che seguono l'istituto durante le lezioni a distanza. C'è bisogno di una persona che guidi, che aiuti, perché il docente parla ma non si accorge a volte di quello che succede a distanza. Sono persone che hanno dato veramente un contributo di originalità soprattutto, perché sono quasi tutti insegnanti di religione, quindi anche a contatto col mondo giovanile, e hanno aiutato noi teologi a scendere un po' in un linguaggio che qualche volta non ci è così familiare. Lei è rimasto anche stupito forse da questa grande adesione che c'è strata tra la nostra popolazione bellunese, insomma i numeri lo confermano, sono tanti gli interessati, quindi diceva abbiamo risposto ad un'esigenza. Sì, stupito, non proprio stupito, perché sentivo che c'era il bisogno. Piacevolmente stupito, possiamo dire. Questi numeri non mi li attendevo così alti, comunque mi fa molto piacere. Ma questo vuol dire che la nostra società anche continua ad interrogarsi e che la fede appunto può dare il proprio aiuto su un tema, se vogliamo, comunque così delicato come quello delle relazioni. Ci sono anche queste richieste anche simpatiche, le persone anziane magari con un computer, con un pc, con un tablet, non hanno tutta questa dimestichezza, e loro hanno chiesto al parroco a Belluno non possiamo andare, ma se veniamo in parrocchia ci fai il collegamento, e allora piccoli gruppi che si troveranno in canonica per seguire insieme questa proposta. E questo è molto importante, anche penso magari per le persone anziane, per creare nuove occasioni di crescita, di confronto, di socializzazione sui temi che sono quelli significativi. Ma ci sono anche giovani però, sottolineo, non ci sono solo persone. Certo, questo è molto importante. Senta, qual è stato il messaggio che anche il nostro Vescovo Renato ha consegnato per questo percorso? Il Vescovo ci ha creduto da subito, ha usato una metafora, quella del seme, che intanto si getta, crescerà, germoglierà, però bisogna avere il coraggio di buttare il seme perché possa nascere qualcosa. Infine, le chiedo, Don Davide, se ci ricorda la sede dell'Istituto, perché magari non tutti conoscono questa preziosa realtà. Allora, è una situazione un po' complessa perché la sede ufficiale è Treviso, il seminario di Treviso, però noi abbiamo il polo didattico di Belluno che ha valore di sede, di staccata, dell'Istituto di Scienze Religiose Giovanni Paolo I. Presso questa stessa sede, che è il seminario gregoriano, si svolgeranno anche le lezioni di questa proposta, che chiamiamola col suo nome, Pensa che fede. Pensa che fede, ecco. Allora, noi nel ringraziare Don Davide per la disponibilità, naturalmente ricordiamo di visitare il sito della Diocesi, proiettiamo ancora la prima locandina, così magari chi si fosse collegato in questo momento ha la possibilità appunto di vedere. Abbiamo parlato del percorso formativo Pensa che fede, promosso dalla nostra chiesa di Belluno Feltre con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose Giovanni Paolo I, o meglio, l'Istituto con la Diocesi, insomma, un lavoro di squadra, un lavoro d'assieme, percorso che partirà il prossimo 6 ottobre. Naturalmente tutte le informazioni si trovano, come detto, sul sito della Diocesi. Don Davide, poi ci ritroveremo ancora comunque per raccontare anche come sarà partita questa esperienza e come va il viaggio, questo percorso. Volentieri. Grazie, grazie Don Davide. Grazie a te. Grazie a te. E a tutti quanti voi che ci avete seguito, buona continuazione d'ascolto, arrivederci. Grazie a te.